Allora, oggi è una giornata molto importante perché siamo di fronte all'AstraZeneca Weekend, dove quindi tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni senza patologie possono venire all'Hub in fiera e vaccinarsi senza prenotazione. Faccio un appello a tutti quanti perché già oggi comunque le adesioni sono state abbastanza discrete, importanti, sono già state vaccinate 70 persone, sono venute molto tranquille, non hanno avuto paura, hanno dovuto somministrare il vaccino senza alcun effetto collaterale. Quindi io dico a tutte le persone venite, vaccinatevi, vi aspettiamo perché sicuramente i rischi di trombosi sono inferiori rispetto ai benefici. Quindi vi aspettiamo e non abbiate paura. Per qualsiasi dubbio parlate con i medici. Bene, io sono qui per vaccinarmi e mi sembra strano che ci sia poca gente a farlo perché questa è un'occasione, visto che chissà poi con le prenotazioni a fasce d'età quanto tempo ci vorrebbe. Oggi è un'occasione, io credo che sia giusto coglierla, tanto prima o poi dovremmo vaccinarci tutti. Per cui invito anche chi magari ancora non si è presentato a farlo perché vaccinarsi è importante. Vaccinatevi, non vi spaventate perché il rischio di una trombosi in seguito al vaccino AstraZeneca è inferiore rispetto, nettamente inferiore rispetto a quella che c'è prendendo la pillola contraccettiva per le donne o fumando per le donne e per gli uomini. Quindi non abbiate paura, proteggetevi perché vaccinarsi anche con AstraZeneca vuol dire proteggersi.